Iniziamo a parte del complesso che era dell'ospedale di Menefadelli. Questa sera... Forse ci vuole il microfono. No, senza microfono perché col microfono si sarebbe un po' dispersato l'eco. Va bene, mi sentite lì dietro, no? Sì. Allora, di nuovo, anzi il tempo non è stato tra me, non è stato tra i migliori, però va bene. Questa è una manifestazione culturale e speriamo che il riscontro che ha avuto stasera, perché c'era in tanti, ed è bello, ciò significa che siete coinvolti e partecipati tutti a ciò che succede in questo piccolo paese, in Torca Romana. Forse se il tempo sarebbe stato migliore avremmo avuto più gente, però va bene lo stesso. Noi parleremo di un libro, di un libro storico, di una libertà storica, però lasciamo che siano gli autori a illustrarci questo percorso anche con delle immagini e con degli spezzoni, tra parentesi, featrali. Allora, prima di ogni cosa, inizialmente le facciamo dopo, il sindaco mi dirà due paroline per accoglierli.